le ricerche durarono per tutta l'estate il criminale non fu scoperto le persone sospette arrestate dimostrarono facilmente la loro innocenza per cui il tribunale dovette rinunciare a dar la cazza al colpevole ma pareva che quel delitto avesse stranamente commosso il paese era rimasta nell'animo degli abitanti un inquietudine una vaga paura una sensazione di misterioso terrore derivante non soltanto dall'impossibilità di scoprire qualunque trazza ma anche e soprattutto dalla strana scoperta degli zoccoli davanti alla porta della rock il giorno dopo il delitto la certezza che l'assassino avesse assistito alle constatazioni che ancora vivesse nel villaggio era sempre presente nella mente di tutti senza dubbio perseguitava tutti pareva che gravasse sul paese come una continua minaccia anche il bosco era diventato un luogo temuto evitato e si credeva frequentato dalle anime prima i paesani ci andavano a passeggio tutte le domeniche dopo pranzo si mettevano a sedere sul muschio ai piedi degli enormi alberi oppure seguivano il corso dell'acqua guardando le trote che guizzavano in mezzo alle erbe i ragazzi giocavano a palla a tappo a boccia in certi punti dove avevano scoperto spianato e battuto la terra e le ragazze in fila di cinque o sei andavano a spasso tenendosi a brazzetto strillando con le loro voci acute certe romanze che grattavano le orecchie facendo certe stonature che turbavano l'aria tranquilla e facevano allegare i denti come l'aceto invece ora più nessuno andava sotto la volta fitta e alta quasi temendo di trovare qualche cadavere disteso venne l'autunno caddero le foglie cadevano giorno e notte calavano volteggiando tonde e leggere lungo i grandi tronchi e già si cominciava a vedere il cielo attraverso i rami ogni tanto allorché una ventata passava sulle cime quella pioggia lenta e continua si spessiva improvvisamente diventava come un acquazzone appena frusciante che copriva il muschio con uno spesso tappeto giallo che scriccolava un poco sotto il passo e il mormorio quasi impercettibile l'ondeggiante mormorio della caduta continuo dolce e triste pareva un lamento e le foglie che seguitavano a cadere parevano lacrime grandi lacrime versate dai grandi alberi tristi che piangevano giorno e notte sulla fine dell'anno sulla fine delle tiepide albe e dei dolci crepuscoli sulla fine dei caldi venticelli e dei limpidi soli e forse anche sul delitto che avevano visto commettere sotto la loro ombra sulla fanciulla violata e uccisa ai loro piedi piangevano nel silenzio del bosco deserto e vuoto del bosco abbandonato e temuto nel quale doveva errare sola l'anima l'anima piccola della morticina la brindil ingrossata dai temporali scorreva più svelta gialla e rosa tra le sue sponde aride tra due siepi di salici magri e gnudi ora ecco che renardè d'un tratto ricominciò a passeggiare nel bosco tutti i giorni al cadere della notte usciva di casa scendeva la scalinata a passi lenti e se ne andava sotto gli alberi con aria pensierosa con le mani in tasca camminava a lungo sul muschio umido e morbido mentre una legione di corvi accorsi da ogni parte per dormire sulle alte chiome si svolgeva attraverso lo spazio come un immenso velo da lutto che ondeggiasse al vento facendo un grande e sinistro schiamazzo ogni tanto si posavano bucando di macchie nere i rami intrecciati contro il cielo rosso sanguinante dei crepuscoli d'autunno poi di colpo ripartivano gracidando spaventosamente svolgendo di nuovo sul bosco e lungo e scuro festone del loro volo infine si buttavano sulle cime più alte e a poco a poco i loro clamori cessavano mentre la notte avanzando mischiava le loro piume nere al nero dello spazio renardet girava ancora lentamente in mezzo agli alberi poi quando non poteva più camminare nel buio fitto tornava a casa si buttava come un sasso nella poltrona davanti al luminoso caminetto tendeva verso il fuoco i piedi umidi che fumavano per parecchio tempo una mattina una grande notizia corse per il paese il sindaco faceva abbattere il bosco già venti boscaioli stavano lavorando avevano cominciato dalla parte più vicina alla casa e andavano in fretta sotto la sorveglianza del padrone anzitutto i tagliatori si arrampicano sul tronco legati a desso da un collare di corda lo abbracciano e alzando una gamba dando come un calcio al tronco in modo che la punta d'acciaio fissata alla suola delle loro scarpe penetri nel legno e vi resti conficcata sicché l'uomo possa sollevarsi come su uno scalino colpire con la punta dell'altro piede e così via ogni volta che l'uomo sale porta più su il collare di corda che lo trattiene all'albero dalle reni gli pende e brilla la roncola d'acciaio si arrampicano pian piano come un animale parassita che assalga un gigante sale pesantemente lungo l'immensa colonna la braccia e la sperona per andare a decapitarla appena è giunto ai primi rami si ferma si stacca dal fianco la roncola affilata e colpisce colpisce lentamente con metodo intaccando il ramo proprio vicino al tronco finché all'improvviso quello scriccola si piega si inclina si strappa e crolla sfiorando nella caduta gli alberi vicini poi si schiaccia al suolo tra uno schianto di legna spezzata e i suoi ramicelli seguitano per parecchio tempo a palpitare il terreno si copriva di rottami che altri uomini a loro volta tagliavano legavano in fascine e ammucchiavano mentre gli alberi ancora in piedi somigliavano a pali smisurati a giganteschi pioli amputati e rasi dal tagliente acciaio delle roncole quando il tagliatore aveva finito il suo lavoro lasciava in cima al fusto dritto e sottile la collana di corda che aveva portato ridiscendeva con l'aiuto degli speroni lungo il tronco scoronato che i boscaioli cominciavano ad attaccare alla base battendo gran colpi che risuonavano in tutto il bosco quando la ferita al piede della pianta pareva abbastanza profonda gli uomini tiravano la corda fissata alla cima mandavano un grido cadenzato e l'immenso tronco scricchiolava e cadeva a terra producendo lo stesso sordo rumore rimbombo di una cannonata lontana ogni giorno il bosco scemava perdeva gli alberi abbattuti come un esercito perde i soldati renardet non se ne andava mai via stava lì dalla mattina alla sera contemplando il mobile con le mani dietro la schiena la morte del suo bosco ogni albero che cadeva si poggiava sopra il piede come se fosse stato un cadavere poi alzava lo sguardo sul successivo con una specie di impazienza segreta e tranquilla quasi che aspettasse o sperasse qualcosa dopo tutto quel massacro intanto si stavano avvicinando al luogo dove era stata trovata la piccola rock ci arrivarono una sera all'ora del crepuscolo il cielo era coperto ed era buio i boscaioli volevano interrompere il lavoro rinviando al giorno dopo la caduta di un enorme faggio ma il sindaco si oppose e volle che subito si togliessero i rami e si buttasse giù il colosso alla cui ombra si era svolto il delitto quando il tagliatore l'ebbe denudato ed ebbe finito la sua acconciatura di condannato a morte quando gli spaccalegna nebbero distrutto la base cinque uomini cominciarono a tirar la corda fissata sulla cima l'albero resisteva e suo tronco possente benché intaccato fino a metà era rigido come il ferro tutti insieme gli operai con un saltello regolare tendevano la corda chinandosi fino a terra e mandando un grido soffocato che rivelava e regolava il loro sforzo due spaccalegna ritti accanto al gigante con lascia in pugno parevano due carnefici pronti a colpire di nuovo e renardet immobile con la mano sulla cortezza aspettava la caduta con una commozione inquieta e nervosa uno degli uomini gli disse state troppo vicino signor sindaco vi potrebbe far male quando casca il sindaco non rispose né si mosse pareva anzi che volesse abbrancare lui stesso il faggio per stenderlo giù come un lottatore ad un tratto al piede dell'alta colonna di legno ci fu una sorta di lacerazione che corse fino alla cima simile a un brivido doloroso la pianta si inchinò un poco come per cadere eppure resistendo ancora eccitati gli uomini si irrigidirono si sforzarono maggiormente e mentre l'albero spezzato crollava renardet improvvisamente fece un passo avanti e si fermò con le spalle sollevate per ricevere l'irresistibile mortale urto che l'avrebbe schiacciato al suolo ma il faggio avendo deviato un poco gli sfiorò le reni e lo mandò a cadere cinque metri più avanti con la faccia a terra gli operai si slanciarono per rialzarlo ma lui già si era tirato in ginocchio stordito con gli occhi sbarrati e si passava la mano sulla fronte come se si svegliasse da un attacco di pazzia quando fu in piedi gli uomini sorpresi lo interrogarono non riuscendo a capire quel che aveva fatto ed egli rispose balbettando che aveva avuto un attimo di smarrimento e aveva creduto di poter riuscire a passare sotto l'albero proprio come i monelli passano correndo davanti alle carrozze che vanno al trotto e aveva sfidato il pericolo che da otto giorni gli cresceva la voglia di farlo e si chiedeva tutte le volte che un albero scricchiolava e stava per cadere si avrebbe potuto passarci sotto senza farsi toccare riconosceva che era una sciocchezza ma tutti hanno simili momenti di insania e simili tentazioni di una stupidità puerile parlava con lentezza cercando le parole con voce sorda e poi se ne andò dicendo arrivederci a domani amici in camera sua si sedette davanti alla tavola rischiarata vivamente dalla lampada coperta da un paralume si prese la fronte tra le mani e cominciò a piangere pianse per molto tempo poi si asciugò gli occhi rialzò il capo e guardò la pendola non erano ancora le sei pensò c'è tempo prima di cena e andò a chiudere la porta a chiave poi si rimise a sedere davanti alla tavola tolse dal cassetto di mezzo una pistola la posò sulle carte in piena luce l'acciaio dell'arma riluceva ma andava a bagliori come di fiamma renardè stette a contemplarla per un po con lo sguardo stravolto ad una persona ubriaca poi salzò e si mise a camminare andava in su e in giù ogni tanto si fermava e subito riprendeva a camminare aprì la porta del camerino inzuppò un asciugamano nella brocca dell'acqua e si bagnò la fronte come aveva fatto la mattina del delitto poi si rimise a camminare tutte le volte che passava davanti alla tavola il suo sguardo era attirato dall'arma lucente la sua mano era sollecitata ma poi guardava la pendola e pensava c'è tempo suonarono le sei e mezzo allora prese la pistola spalancò la bocca con una smorfia orrenda si infilò dentro la canna come se avesse voluto ingoiarla rimase per qualche istante così fermo col dito sul grilletto poi scosso da un brivido d'orrore sputo l'arma sul tappeto ricalde nella poltrona singhiozzando non posso non ho il coraggio oddio dio come posso fare per avere il coraggio d'ammazzarmi senti bussare alla porta si rizzò sgomento un servo diceva la cena è pronta rispose va bene scendo raccolse la pistola la richiuse nuovamente nel cassetto poi si guardò nello specchio del caminetto per vedere se il suo viso non apparisse troppo convulso era rosso come sempre forse un po troppo null'altro scese e si mise a tavola mangiò con lentezza tirando per le lunghe come se non volesse ritrovarsi solo con se stesso poi fumò una pipata dopo l'altra mentre sparecchiavano la tavola infine salì in camera sua appena ebbe chiuso col chiavistello guardò sotto il letto aprì tutti gli armadi esplorò tutti i cantucci frugò tutti i mobili dopo accese le candele del caminetto e si voltò indietro diverse volte percorrendo la stanza con lo sguardo con un terrore angosciato che gli deformava il volto poiché ben sapeva che stava per vederla come tutte le notti stava per vedere la piccola rock la ragazza che aveva violentato e poi strozzato tutte le notti l'orrenda visione ricominciava da prima si sentiva nelle orecchie una specie di brontolio come il rumore di una battitrice o il passaggio lontano di un treno su un ponte allora gli veniva l'affanno si sentiva soffocare doveva sbottonarsi il colletto slacciarsi la cintola camminava per far circolare il sangue cercava di leggere si sforzava di cantare ma era tutto inutile suo malgrado il pensiero gli tornava al giorno del delitto glielo faceva ripetere in tutti i più segreti particolari in tutte le più forti sensazioni dal primo all'ultimo minuto la mattina di quell'orrenda giornata alzandosi aveva provato un certo stordimento un mal di capo che attribuì al caldo sicché rimase in camera fino all'ora del desinare dopo mangiato aveva fatto la siesta poi era uscito alla fine del pomeriggio per respirare un po d'aria fresca e ristoratrice sotto gli alberi del bosco ma appena fuori l'aria pesante ardente della campagna aumentò il suo senso d'oppressione il sole ancora alto in cielo riversava torrenti di luce ardente sulla terra calcinata arida e sitibonda nemmeno un soffio di vento muoveva le foglie tutti gli animali uccelli e perfino le cavallette stavano zitti renardè arrivò sotto i grandi alberi e cominciò a camminare sul muschio dove la brindille evaporava un po di frescura sotto l'immenso tetto dei rami ma si sentiva male lo stesso gli pareva che una mano sconosciuta e invisibile gli stringesse il collo e non pensava quasi più dato anche che normalmente aveva poche idee per la testa soltanto una vaga idea lo tormentava da tre mesi l'idea di risposarsi non riusciva a viver solo ne soffriva fisicamente e moralmente abituato da dieci anni a sentirsi una donna accanto abituato alla sua presenza continua al suo quotidiano abbraccio aveva un bisogno forte e confuso di quel contatto incessante di quell'amore regolare dopo la morte della moglie egli soffriva soffriva senza capir bene perché di non sentire più le gonne di lei sfiorargli le gambe ogni giorno di non potersi più calmare e indebolire tra le sue braccia soprattutto era vedovo da appena sei mesi e già cercava nelle vicinanze una ragazza o una vedova da sposare appena fosse finito il lutto aveva un'anima casta ma un possente corpo da ercole immagini sensuali avevano cominciato a turbargli il sonno e la veglia le scacciava e quelle tornavano in certi momenti sorridendo di se stesso morborava sono come sant'antonio quella mattina gli erano venute parecchie di quelle visioni opprimenti ebbe voglia di andare a fare un bagno nella brindill per rinfrescarsi e placare l'ardore del sangue conosceva un posticino un po all'interno dove c'era un'ansa larga e profonda in cui la gente del paese si bagnava talvolta d'estate ci andò folti salici nascondevano quel limpido bacino dove la corrente si riposava faceva un sonnellino prima di riprendere il cammino nell'avvicinarsi gli parve di sentire un rumore leggero uno sciacquio che non era quello del ruscello sulle sponde scostò pian piano le foglie e guardò una giovinetta nuda e bianca attraverso l'onda trasparente batteva l'acqua con le mani faceva delle mosse di danza girava su se stessa con gesti gentili non era più una bambina e non era ancora una donna era grassa e formata eppure sembrava ancora una monella cresciuta in fretta quasi matura immobile trattenne il respiro attonito angosciato preso da un turbamento strano e forte gli era venuto il batticuore come se uno dei suoi sogni sensuali si fosse avverato come se una fata impura gli avesse fatto apparire davanti quell'essere conturbante e troppo giovane piccola venere rusticana nata dai ribollimenti del ruscelletto come l'altra quella grande era nata dalle onde del mare ecco che la fanciulla uscì dall'acqua senza vederlo venne verso di lui per cercare gli abiti e rivestirsi a mano a mano che si avvicinava a passettini esitanti per timore dei sassi puntuti egli si sentiva sospinto verso di lei da una irresistibile forza da uno slancio bestiale che gli increspava la carne gli ottenebrava l'anima e lo faceva tremare da capo a piedi la sentì ferma per qualche istante dietro il salice che lo nascondeva perse completamente la testa scostò i rami si precipitò su di lei la prese tra le brazza e la cadde troppo sgomenta per resistere troppo atterrita per chiamare la possedette senza nemmeno capire quel che facesse si svegliò dal delitto come da un incubo la fanciulla cominciava a piangere stai zitta le disse stai zitta ti darò tanti soldi lei non lo ascoltava e si guidava a singhiozzare vuoi stare zitta vuoi stare zitta vuoi stare zitta seguito lui la fanciulla urlò e si contorse per fuggire improvvisamente lui capì di essere perduto la prese per il collo perché non le uccissero più dalla bocca quei gridi strazianti e terribili mentre la bambina seguitava a dibattersi con la forza esasperata di chi vuole sfuggire alla morte e gli strinse la sua mano di colosso su quella piccola gola gonfia di urla e la sua stretta era così furente che in pochi istanti la strozzò benché non intendesse ammazzarla ma soltanto farla tacere poi si iniziò pietrificato dall'orrore lei gli giaceva davanti sanguinante col viso nero stava per scappare quando nella sua anima sconvolta sorse il misterioso e confuso istinto che guida gli esseri in pericolo poco mancò che non buttasse il corpo nell'acqua ma un altro impulso lo sospinse verso i vestiti che radunò in un pacchettino con un pezzo di spago che aveva in tasca li legò e li nascose in un profondo buco del ruscello sotto un tronco d'albero che si bagnava nella brindilla poi se ne andò alla svelta arrivò alla campagna fece un grandissimo giro per farsi vedere da certi contadini che stavano dall'altra parte del paese e rientrò per la cena alla solita ora raccontando ai domestici tutta la passeggiata che aveva fatto eppure quella notte dormì di un pesante sonno animalesco come talvolta devono dormire i condannati a morte aprì gli occhi soltanto alle prime luci dell'alba e si mise ad aspettare la normale ora del suo risveglio torturato dalla paura che il crimine fosse scoperto poi dovete assistere a tutte le constatazioni agì come un sonnambulo in una sorta d'allucinazione che gli mostrava uomini persone e cose attraverso una sorta di sogno in una nube di ebbrezza con questo aspetto di realtà che sconvolge le menti durante le grandi catastrofi soltanto il grido straziante della rock gli traversava l'anima per poco non si buttò ai piedi della donna gridando sono stato io ma riuscì a trattenersi durante la notte andò a ripescare gli zoccoli della morta e li portò sulla soglia della madre finché durò l'inchiesta egli dovette guidare e ingannare la giustizia restò calmo padrone di sé furbo e sorridente discuteva tranquillamente coi magistrati tutte le loro supposizioni combatteva le loro opinioni demoliva i loro ragionamenti godeva anche in un modo aspro e a sconvolgere le loro ricerche a imbrogliare le loro idee a far risultare innocenti coloro che si sospettavano ma da quando le ricerche furono abbandonate egli a poco a poco si innervosì diventò più eccitabile di prima ancorché riuscisse a dominare gli impeti di collera un rumore improvviso lo faceva sobbalzare impaurito fremeva per un non nulla a volte trasaliva se una mosca gli si posava sulla fronte lo prese allora un imperioso bisogno di movimento che lo costrinse a fare passeggiate straordinarie a star ritto per notte intere camminando su e giù nella camera non era mica tormentato dai rimorsi la sua natura brutale non era fatta per percepire sfumature di sentimento o timori morali uomo energico e violento nato per guerreggiare per saccheggiare i paesi conquistati e massacrare i vinti con selvaggi istinti di cacciatore e lottatore per lui la vita umana non contava nulla rispettava la chiesa per politica ma non credeva né a dio né al diavolo e quindi non s'aspettava da nessun'altra vita castiglio ricompense per le azioni commesse in questa ciò in cui egli credeva era una confusa filosofia formata dalle idee di tutti gli enciclopedisti del secolo passato considerava la religione come una sanzione morale della legge e credeva che l'una e l'altra fossero state inventate dagli uomini per regolare i rapporti sociali uccidere qualcuno in duello o in guerra o in un litigio o per disgrazia o per vendetta o anche per malvagità mi sarebbe parsa un'azione divertente e spavalda che non avrebbe lasciato nella sua mente una traccia maggiore della fucilata tirata su una lepre ma era restato profondamente turbato dall'assassinio della fanciulla lo aveva commesso nell'accecamento ad una irresistibile ebbrezza in una tempesta di sensualità che aveva travolto la sua ragione egli era restato nel cuore e nella carne e sulle labbra perfino nelle sue dita di assassino una specie di amore bestiale misto a un orrore impaurito per la fanciullina che aveva sorpreso e vigliaccamente ucciso il suo pensiero tornava di continuo a quell'orribile scena benché si sforzasse di scacciarne l'immagine di metterla da parte con orrore se la sentiva girare nella mente intorno alla persona in attesa di riapparire cominciò ad aver paura della sera dell'ombra che gli calava attorno non sapeva ancora perché le tenebre lo spaventassero ma le temeva istintivamente e sentiva colme di terrori il giorno non è fatto per la paura si vedono esseri e cose si incontrano soltanto gli esseri e le cose che si mostrano alla luce ma la notte la notte buia più spessa di una muraglia vuota ed infinita così nera e grande nella quale si possono sfiorare cose tanto spaventevoli la notte in cui si sente girare il misterioso terrore gli sembrava che nascondesse un pericolo ignoto vicino e minaccioso quale lo seppe presto una sera molto tardi mentre stava nella sua poltrona perché non poteva dormire gli parve di veder muovere la tendina della finestra attesa inquieto mentre il cuore gli batteva forte la stoffa non si muoveva più poi d'un tratto si mosse di nuovo o almeno gli parve che si muovesse non ebbe il coraggio ad alzarsi non respirava nemmeno eppure era coraggioso spesso sarebbe battuto e gli sarebbe piaciuto scoprire dei ladri in casa si muoveva davvero quella tendina seguitava a chiederselo nel timore che gli occhi l'avessero ingannato che cos'era d'altronde un leggero brivido della tenda quel tremolio delle pieghe quell'ondeggiamento che provoca il vento renardet stava con gli occhi sbarrati il collo teso finché d'un tratto si levò vergognandosi della sua paura fece due passi prese la stoffa a piene mani e la scostò da principio vide soltanto i vetri neri neri come lucenti lastre di inchiostro una gran notte impenetrabile si stendeva dietro ad essi fino all'orizzonte invisibile lui stava ritto di fronte a quell'ombra illimitata ed un tratto scorse una luce che si muoveva e pareva lontana accostò il viso al vetro pensando che fosse un pescatore di frodo in cerca di granchi nella brindille perché era mezzanotte passata e la luce strisciava sul bordo dell'acqua sotto il bosco non riuscendo ancora a distinguere nulla renardet si protesse gli occhi con le mani ed un tratto il barlume divenne chiarore e vide la piccola roc nuda e sanguinante sul muschio pieno di raccapriccio indietreggiò urtò contro la poltrona e cadde all'indietro restò qualche istante così angosciato poi si mise a sedere e cominciò a pensare aveva avuto un'allucinazione provocata da quel ladro notturno che camminava sulla riva con la lanterna e poi non c'era nulla di strano che il ricordo del delitto provocasse la visione della morta si rialzò beve un bicchier d'acqua e si rimise a sedere che faccio se ricomincia pensava e sentiva era certo che sarebbe ricominciato già la finestra stimolava il suo sguardo lo attirava per non vederla più rivoltò la poltrona preso un libro e cercò di leggere ma presto credette gli parve di sentire qualcosa muoversi dietro di lui e fece piroettare la poltrona su una zampa la tendina si muoveva ancora sì sarà mossa davvero questa volta non c'erano dubbi si slanciò e la prese con tanta violenza che la tiro giù con tutto il palchetto poi incollò avidamente il viso sul vetro di fuori era tutto nero respirò con la stessa gioia dell'uomo al quale sia stata salvata la vita si rimise a sedere ma quasi subito lo riprese il desiderio di guardare un'altra volta dalla finestra da quando era caduta la tenda essa era diventata come una nera apertura attraente e temibile sulla campagna buia per non cedere alla pericolosa tentazione si spogliò spense i lumi si mise a letto e chiuse gli occhi immobile supino con la pelle calda e madida aspettava il sonno all'improvviso fu abbagliato da una gran luce aperse gli occhi credendo che bruciasse la casa era tutto nero si sollevò poggiandosi sul gomito per cercare di distinguere la finestra che seguitava ad attirarlo invincibilmente a forza di frugare con lo sguardo vide qualche stella si alzò traversò la camera a tastoni con le mani stese trovò i vetri e appoggiò la fronte sotto gli alberi il corpo della fanciulla brillava come fosforo illuminando l'erba intorno renardè mandò un grido e corse verso il letto dove rimase fino alla mattina con la testa nascosta sotto il guanciale da quel momento la sua vita diventò insopportabile le giornate passavano nel terrore delle notti e ogni notte la visione ricominciava appena si era chiuso in camera tentava di lottare ma in vano una forza irresistibile lo sollevava lo portava fino al vetro come a chiamare il fantasma la vedeva subito sdraiata sul luogo del delitto con le braccia e le gambe spalancate come l'avevano trovata poi la morta si alzava camminava a passettini come aveva fatto la fanciulla uscendo dall'acqua veniva pian piano attraversando in linea retta il prato passando sulla iola di fiori secchi e si alzava nell'aria verso la finestra di renardè andava incontro come aveva fatto il giorno del delitto incontro al suo assassino uomo indietreggiava davanti all'apparizione indietreggiava fino al letto gli si lasciava cadere ben sapendo che la piccola era entrata ed ora stava dietro la tenda e si sarebbe subito mossa fino all'alba guardava fissamente la tenda aspettandosi ad ogni istante di vederne uscire la sua vittima ma costai non usciva restava sotto la stoffa agitata ogni tanto da un fremito renardè stringeva le dita granchite sulle lenzuola come aveva stretto la gola della piccola rock udiva battere le ore sentiva nel silenzio il ticchettio della pendola e i palpiti profondi del suo cuore e soffriva quel miserabile più di quanto abbia mai sofferto alcun altro uomo appena sul soffitto si vedeva una striscia bianca che annunciava al giorno si sentiva libero finalmente solo solo nella camera si rimetteva a letto dormiva alcune ore un sonno inquieto e febbrile durante il quale gli accadeva di sognare le sue spaventose visioni più tardi quando scendeva per il desinare era sfinito come dopo straordinarie fatiche appena mangiava perseguitato dal timore di colei che avrebbe rivisto la notte seguente sapeva bene che non poteva essere un'apparizione che i morti non tornano che la sua anima malata e ossessa da quell'unico pensiero da quell'indimenticabile ricordo era la sola causa del suo supplizio la sola evocatrice della morte essa la chiamava la resuscitava chi la metteva davanti agli occhi gliela stampava indelebilmente nello sguardo ma sapeva anche che non sarebbe guarito che mai sarebbe sfuggito alla persecuzione selvaggia della sua memoria e piuttosto di sopportare ancora quei tormenti decise di morire cercò il modo di ammazzarsi voleva qualcosa di semplice e naturale che non facesse credere a un suicidio ci teneva alla sua reputazione al nome che gli era stato lasciato dai suoi avi se avessero sospettato la causa della sua morte senza dubbio avrebbero pensato al delitto impunito all'assassino introvabile e prima poi l'avrebbero accusato era venuta una strana idea di farsi schiacciare dall'albero sotto cui aveva ucciso la piccola rock decise di far buttare giù il bosco e di fingere un incidente ma il faggio si rifiutò di spezzargli le reni tornato a casa fuori di sé dalla disperazione aveva preso la pistola ma non aveva avuto il coraggio di sparare era venuta l'ora di cena aveva mangiato poi era tornato su senza sapere quel che avrebbe fatto si sentiva vigliacco ora che era sfuggito una volta alla morte poc'anzi era pronto forte deciso arbitro del suo coraggio della sua decisione ora era debole aveva paura della morte quanta ne aveva della morta non ce farò più non ce la farò più balbettava e guardava terrorizzato ora l'arma sulla tavola ora la tenda che copriva la finestra gli pareva perfino che sarebbe accaduto qualcosa di tremendo appena la sua vita fosse finita qualcosa che cosa forse si sarebbero incontrati lei lo spiava l'aspettava lo chiamava e si faceva vedere tutte le sere perché voleva prenderlo a sua volta voleva attirarlo nella vendetta e convincerlo a morire cominciò a piangere come un bimbo ripetendo non ce la farò più non ce la farò più cadde ginocchioni balbettando mio dio mio dio eppure non credeva in dio non aveva davvero il coraggio di guardare la finestra dove sapeva che stava rannicchiata l'apparizione nella tavola dove brillava la pistola appena si fu alzato disse ad alta voce non può durare bisogna finirla il suono della sua voce nella camera silenziosa gli suscitò un brivido di paura che gli traversò le membra ma siccome non riusciva a decidersi siccome ben sapeva che il suo dito avrebbe rifiutato di premere il grilletto tornò a nascondere il capo sotto le coperte e si mise a pensare doveva trovare qualcosa che lo costringesse a morire inventare un trucco contro se stesso che non gli permettesse esitazioni ritardi o limpianti invidiava i condannati che venivano condotti al patibolo in mezzo ai soldati o se potesse pregare qualcuno di sparargli addosso se potesse dichiarando lo stato in cui si trovava aprire la sua anima confessare il suo delitto ad un amico fidato che non lo dicesse mai e ottenere che costui lo uccidesse ma chi poteva chiedere un così tremendo favore a chi pensò alle varie persone che conosceva il dottore no avrebbe raccontato tutto dopo improvviso uno strano pensiero gli attraversò la mente avrebbe scritto al giudice istruttore che conosceva intimamente per denunciarsi da sé nella lettera gli avrebbe detto tutto del delitto delle torture che pativa della la decisione di morire e le sue esitazioni del mezzo che aveva escogitato per sforzare il suo vacillante coraggio avrebbe supplicato in nome della loro vecchia amicizia di distruggere la lettera non appena avesse saputo che il colpevole s'era condannato da sé renardet sapeva che poteva fidarsi di quel magistrato lo conosceva come persona sicura discreta incapace persino di dire una frase leggera era una di quegli uomini dotati di una coscienza inflessibile governata diretta e regolata dalla sola ragione appena ebbe concepito quel progetto una strana gioia gli invase l'anima si sentiva tranquillo avrebbe scritto la lettera e con calma la mattina l'avrebbe messa nella cassetta che stava sul muro della masseria sarebbe salito sulla torre per vedere quando arrivava il procaccia e appena l'uomo col camiciotto turchino se ne fosse andato si sarebbe buttato a capo in giù sulle rocce dove erano poste le fondamenta avrebbe fatto in modo che lo vedessero gli operai che stavano abbattendo il bosco si sarebbe potuto arrampicare sull'alto scalino che reggeva l'asta della bandiera che veniva alzata nei giorni di festa avrebbe stroncato l'asta e si sarebbe precipitato insieme ad essa tutti avrebbero creduto in un incidente e lui sarebbe morto sul colpo dati il suo peso e l'altezza della torre subito uscì dal letto andò alla tavola e cominciò a scrivere non dimenticò nulla né un particolare del delitto né un particolare della sua vita tormentata né un particolare delle torture che lo straziavano finì annunciando che sarà condannato da sé che avrebbe giustiziato il criminale e pregava il suo amico il suo vecchio amico di vigilare affinché la sua memoria non fosse mai accusata nel finire la lettera si accorse che era spuntato il giorno la chiuse la sigillò scrisse l'indirizzo scese con passo leggero corse fino alla cassettina bianca fissata sul muro all'angolo della masseria e quando vi ebbe gettato dentro quella carta che gli pesava in mano torna su alla svelta mise il paletto al portone e salì in cima alla torre per aspettare il passaggio del procaccia che si sarebbe portato via la sua sentenza di morte si sentiva calmo sollevato salvo un vento freddo e asciutto di ghiaccio gli percoteva la faccia lo aspirava con avidità a bocca aperta bevendo quella carezza gelida il cielo era d'un rosso ardente ed invernale e la campagna bianca di brina brillava sotto i primi raggi del sole come se fosse stata cosparsa di polvere di vetro renardè dritto a testa nuda guardava il paesaggio la campagna a destra a sinistra il paese coi camini che già cominciavano a fumare per la colazione ai suoi piedi vedeva scorrere la brindille tra le rocce su cui si sarebbe schiacciato fra poco si sentiva rinascere in quella bella alba gelata pieno di forza e di vita la luce lo inondava lo circondava lo riempiva come una speranza mille ricordi gli venivano alla mente ricordi di mattinate simili di marce svelte sulla terra dura che risuonava sotto il passo felici cacce sulle rive degli stagni in cui dormono le anatre selvatiche tutte le cose buone che gli piacevano le cose buone della vita s'affollavano nel suo ricordo lo stimolavano con nuovi desideri ridestavano i vigorosi appetiti del suo corpo attivo e possente e stava per morire perché stava per ammazzarsi a quel modo perché aveva paura di un'ombra paura di nulla era ricco e ancora giovane che pazzia ma gli sarebbe bastata una distrazione una vacanza un viaggio per dimenticare quella stessa notte non aveva visto la fanciulla perché la sua mente era occupata e sarà distratta forse non avrebbe rivista più e poi se lo perseguitava in quella casa non avrebbe seguito altrove la terra era grande l'avvenire lungo perché morire il suo sguardo vagava nella campagna e scorse una macchia turchina nel sentiero che costeggiava la brindille era medric che veniva a portare le lettere dalla cittadina e a portar via quelle del paese renardet sussultò ebbe una sensazione di dolore fisico e si slanciò per la scala chiocciola per ripigliare la sua lettera per farsela ridare dal postino importava poco da essere visto ora correva tra l'erba su cui pareva schiumeggiare il lieve ghiaccio della notte e arrivò davanti alla cassetta all'angolo della fattoria nello stesso istante del procaccia costui aveva aperto lo sportello di legno e stava prendendo le lettere che vi avevano messo gli abitanti del paese buongiorno medric gli disse renardet buongiorno signor sindaco sentite medric ho buttato nella buca una lettera di cui ora ho bisogno vorrei che me la ridaste va bene signor sindaco ora ve la ridò il postino alza gli occhi restò sbigottito nel vedere il viso di renardet le guance violette lo sguardo smarrito gli occhi cerchiati di nero e quasi sprofondati nelle orbite i capelli spettinati la barba in disordine la cravatta sciolta si vedeva che non era andato a letto vi sentite male signor sindaco chiese medric nel capire quanto dovesse parere strano il suo contegno l'altro si confuse e balbettò no no sono saltato giù dal letto per venirvi a chiedere questa lettera stavo dormendo capite un vago sospetto passò nella mente del vecchio soldato quale lettera chiese quella che mi dovete restituire ora medric esitava perché l'atteggiamento del sindaco non gli pareva naturale forse in quella lettera c'era un segreto un segreto di politica sapeva che renardet non era repubblicano e sapeva i trucchi e le frodi che vengono fatti durante le elezioni a chi era indirizzata la lettera chiese al giudice istruttore putuin putuin mio amico lo sapete in procaccia cercò tra le carte e trovò quella reclamata si mise a guardarla girandola e rigilandola tra le dita molto indeciso e turbato dal timore di commettere un grave sbaglio o di farsi nemico il sindaco nel vedere la sua esitazione renardet fece un movimento per afferrare la lettera e levargliela quel gesto brusco convince medric che si trattava di un mistero importante e lo decise a fare il suo dovere a qualunque costo buttò la busta dentro il sacco lo rinchiuse rispondendo non posso signor sindaco siccome era indirizzata la giustizia non posso una tremenda angoscia strinse il cuore di renardet che balbettò ma voi mi conoscete bene potete anche riconoscere la mia scrittura vi dico che ho bisogno di questa lettera non posso via medric sapete bene che non vi inganno vi dico che ne ho bisogno no non posso un brivido di collera passò nell'anima violenta di renardet ma per diana state attento sapete bene che non scherzo e che posso farvi saltare il posto caro mio senza aspettar tanto e poi sono o non sono il sindaco del paese vi ordino di darmi quella lettera in procaccia rispose con fermezza no non posso signor sindaco fuori di sé renardet lo prese per un braccio per togliergli il sacco ma il postino con uno scossone si svincolò e indietrezzando levò il suo grosso bastone di agrifoglio disse sempre calmo non mi toccate signor sindaco se no picchio state attento faccio il mio dovere renardet si sentì perduto e di colpo diventò umile docile implorante come un bambino andiamo andiamo siate buono ridatemi quella lettera saprò ricompensarvi vi darò dei soldi sì sì vi darò cento franchi avete capito cento franchi medric si voltò e cominciò a camminare renardet lo seguì ansimando balbettando medric medric statemi a sentire vi darò mille franchi avete capito mille franchi l'altro seguitava a camminare senza rispondere renardet riprese vi farò ricco capite quel che vorrete 50.000 franchi 50.000 franchi per quella lettera va bene no allora centomila sì centomila franchi avete sentito centomila franchi centomila franchi un procaccia si voltò col viso duro l'occhio severo ora basta oppure ripeterò allo giustizia tutto quel che mi avete detto renardet si fermò era finito non c'era più speranza si voltò e corse verso casa sua simile a un animale in fuga fu la volta di medric di fermarsi e di contemplare con stupore quella fuga vide il sindaco entrare in casa e rimase ad aspettare come se dovesse accadere qualcosa di straordinario difatti dopo poco l'alta figura di renardet apparve sulla sommità della torre della volpe correva intorno alla terrazza come un matto poi afferrò l'asta della bandiera e la scrollò con furia senza riuscire a spezzarla infine come un notatore che si tuffa di testa si lanciò nel vuoto con le mani stese avanti medric corse per portar di aiuto mentre attraversava il parco vide gli spaccalegna che andavano al lavoro li chiamò di lontano informandoli a grida della disgrazia ai piedi del muro c'era un corpo sanguinante col capo sfracellato contro una roccia la brindil circondava quella roccia e nelle sue acque in quel punto ampio e limpide e tranquille si vedeva colare un sottile rivolo rosa di cervello commisto a sangue grazie a tutti 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 Grazie a tutti